Ciao ragazzi e benvenuti all'episodio dell'8 dicembre. Vogliamo vedere che cosa c'è dentro? Oggi c'è un alberello, perché ci colleghiamo alle curiosità che abbiamo letto ieri per raccontarvi una bellissima storia sull'albero di Natale. L'albero di Natale del signor Vitale. Un bel mattino freddo, l'abete di Natale giunse nel giardino del signor Vitale. Era un esemplare davvero prodigioso, robusto e verde acceso, enorme e rigoglioso. Quando il gentiluomo, fremendo d'emozione, scese dalle scale e spalancò il portone. «È un portento, vero?» sorrise ed esclamò. «Lo porti pure dentro, ma dove lo metterò?» «La prego, venga avanti, poi giri verso destra. Il luogo più opportuno è accanto alla finestra». Ma non appena l'albero fu messo bello dritto, si accorse che la cima spingeva sul soffitto. E anzi si curvava come in un inchino. «Per dinci, qui dobbiamo tagliarne un pezzettino!» Chiamò il suo maggiordomo che accorse in tutta fretta, salendo sulle scale munito di un'accetta e dando un taglio secco con aria competente, tranciò la punta in cima dell'albero imponente. «Peccato da un certo taglio», ammise il maggiordomo, «ma almeno adesso riesce a stare nel salone». Posò la cima verde su un piatto in madreperla e il maggiordomo disse «so io chi regalarla». Salito al primo piano, l'offrì come una rosa a Tina Cameriera, precisa e premurosa. «Sarà meraviglioso!» «Con qualche bello addobbo», sorrisse compiaciuta la Cameriera Tina. «Però un po' troppo alto, peccato che sia Gobbo. Proviamo a raddrizzarlo con una spuntatina». E con un colpo netto di forbice affilata, tagliò la punta all'albero, cantando spensierata. La bella cima verde fin dentro il cestino, insieme ad altre cose da dare allo spazzino. Passò di lì per caso Teodoro il giardiniere, che osservò stupito, non senza dispiacere. «È bello, verde, lasciarlo qui è un peccato». Il carico in carriola l'abete fortunato. Teodoro corse a casa, pensando alla sorpresa, da fare alla sua sposa la tenera Teresa. «Stupendo!» disse lei. «Per noi sarà perfetto. Però la casa è piccola, tagliamone un pezzetto». E prima che Teodoro potesse dir di no, la moglie sulla punta un poco lo accorciò. Proprio in quel momento, l'orso Sergiolino stava attraversando la neve del giardino. Si fermò di colpo, facendo tanto docchi. Chi mai gettava via un albero coi fiocchi? Lo prese senza indugio e ripartì di corsa, diretto verso casa, per darla a mamma orsa. «Non è spettacolare!» sorrise Sergiolino, mentre si scaldava al fuoco del camino. Marsetto che era giunto accanto al suo papà, piagnucolo scontento. «La stella non ci sta!» Allora Sergiolino, per accorciarlo un po', propose di tagliare un pezzo del suo fusto. Invece mamma orsa la punta gli tranciò. «Vedrai che così l'albero è alto al punto giusto!» «Evviva mamma orsa! Idea eccezionale!» E adesso ci mettiamo gli addobbi di Natale. Fessoni di popcorn, ciambelle con le mele, lampogne e caramelle croccanti d'orze e miele. «Pensateci un po' voi!» rispose lei gioiosa. «Io intanto faccio spazio e metto via qualcosa!» «Per prima questa punta, che non ci serve più!» «La lascerò qua fuori senza pensarci più!» Nel cuore della notte, con fare malandrino, passò da quelle parti il furbo Vlad Volpino. Quando addocchiò alla punta, pensò tra sé, «Perbacco! E men che non si dica se la infila nel sacco!» Poi corse dritto a casa, ma aveva tanta fretta che superò di un balzo la borta del cancello. «Guarda cos'ho, mia cara!» annunciò Violetta. «Oh caro che splendore! Avremo un alberello!» Ma appena sistemato a tutti fu evidente che il posto per l'abete non era sufficiente. «Adesso lo aggiustiamo, dichiarò Violetta. Basterà tagliare un pezzo di incimetta!» Qualche tempo dopo, nei pressi della tana, passò papà coniglio con una faccia strana. Immobile fissava quel dono inaspettato e si chiedeva incredulo, «Chi mai l'avrà lasciato?» A grandi balzoni, con il tesoro in mano, si volse verso casa urlando da lontano. «Venite tutti presto, stupore e meraviglia! C'è un dono di Natale per tutta la famiglia!» Portarono l'abete al centro della stanza. Gli fecero una festa ballando in giro tondo, scuotendo le carote al ritmo della danza, sentendosi i conigli più fortunati al mondo. Papà coniglio disse al termine del ballo, «Un pezzo di carota farà da piedistallo, così sicuramente sarà di grande effetto poggiata sulla mensola del nostro caminetto!» Ma i cuccioli notarono con tono sconsolato, «Guardate, la punta si piega giù di lato!» La loro mamma disse, «Rimedio in un istante!» Poi afferò il coltello che usava per le piante e, come già qualcuno aveva fatto prima, tagliò con sicurezza e buttò via la cima. Nel freddo della sera passò un topolino che aveva visto quel minuscolo abete di Natale. lo trascinò con sé, gradino per gradino. Due volte cadde giù, facendosi un po' male. Ma infine giussa il caldo della sua casetta e poté donarlo alla sua diletta, che per ringraziarlo di quell'omaggio l'ornò con una bella stella di formaggio. E chiede soddisfazione avere per Natale un albero stupendo come il signor Vitale. Bene, e così si conclude la nostra storia. Ci vediamo domani, sempre alle 5. Ciao!